Mecomonaco sfuma la vittoria al Sulmona per un rigore molto ma molto dubbio. Partiamo da questo, come l'hai visto? Non mi fate parlare dell'albito perché assolutamente non ne voglio parlare. Posso parlare della mia squadra che secondo me ha fatto un'ottima prestazione, forse la migliore, contro una squadra molto forte, molto attrezzata, con un parco attaccanti importante, anche in panchina. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo fatto due piccoli errori, abbiamo preso due gol, noi potevamo fare qualcosa in più, però io sono molto contento della squadra perché mi sembra una squadra messa bene in campo, che lotta su ogni pallone, che crea, gioca, si difende molto bene, abbiamo rischiato pochissimo contro una squadra, ripeto, molto attrezzata. Walter Marini è l'allenatore in seconda del Sambuceto, gran bella partita quest'oggi al Pallozzi. Partiamo da questo, poi le chiedo se il Sambuceto è soddisfatto o meno di questo punto. No, è stata una bella partita tra due squadre organizzate. A mio parere noi siamo partiti meglio. Abbiamo avuto 4-5 situazioni per fare gol, non abbiamo fatto gol, poi abbiamo trovato un gol con una manovra veramente bella, però ci ha tagliato un po' le gambe appena fatto gol e aver ripreso gol. Poi ci siamo messi a posto, io ho visto un secondo tempo più equilibrato, quindi direi che il pareggio è un risultato giusto.